Una fra le location più suggestive del comune che rientra di diritto fra i borghi più belli d'Italia. Fa da cornice alla mostra fotografica di Paolo Ippoliti dal titolo significativo La Santa Spina, la storia, la bellezza. Immagini di uno dei momenti più intensi di Montone sono stati esposti per la prima volta nei chiostro di San Francesco. Montone continua ad avere spazio, ad avere presenza, a coltivare arte e cultura. Questo qui è solo un pezzettino, una minima parte di questa storia di Montone, di questa tradizione che va avanti da secoli e che tutti gli anni viene riproposta. Sono 16 fotografie, 4 rappresentano le fasi salienti della festa Le altre 12 rappresentano le stornellate o anche rappresentazioni medievali sono 3 per ciascun rione e queste sono tutte foto inediche tratte dall'edizione 2022 quella dell'anno scorso, quella della ripartenza e quindi devo ringraziare veramente Mirko, Rinaldi, tutta Montone, la Proloco, i montonesi in genere. In esposizione 16 immagini, tutte dedicate alla festa in grande formato e scelta tra quelle scattate nell'edizione 2022 l'anno che ha segnato la grande ripartenza della celebrazione della donazione della Santa Spina dopo i limiti imposti dai Covid.